Fratelli carissimi, siamo ancora nel tempo di Natale nel quale la Chiesa ci invita a meditare, a approfondire il mistero grande dell'incarnazione e oggi appare questo mistero in tutta la sua forza nel nostro Signore Gesù Cristo che cammina sulle acque, cammina sulla morte con un corpo identico al tuo e al mio e provoca una reazione di sgomento, di paura, di terrore. I discepoli pensano di vedere un fantasma, esattamente come nella notte di Pasqua quando appare il Signore risorto nel cenacolo. Anche noi tante volte dubitiamo dell'incarnazione, cioè dubitiamo che Dio, il creatore dell'universo, possa farsi veramente carne nella tua vita, nella mia vita e pensiamo che sia un fantasma, che sia qualcosa che non ha realmente relazione con la mia storia. Cioè un frutto forse dell'immaginazione, di un desiderio, forse come tanti hanno detto e continuano a dire, intellettuali o pseudo-intellettuali, il frutto di una proiezione dei nostri desideri, delle nostre speranze, il bisogno di ancorarsi a qualcosa. Oggi appare l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo che svela ciò che c'è nel tuo cuore e nel mio cuore. Perché dice che non avevano compreso i discepoli il fatto dei pani, il segno, il mistero grande dei pani e per questo erano stupiti, sgomenti, meravigliati. Cioè, com'è possibile che Dio possa planare nella storia, possa fare dei segni concreti in mio favore, in favore della mia famiglia, in favore delle persone? La difficoltà di ogni giorno, la precarietà che genera poi in noi reazioni che si chiamano peccati, reazioni di difesa, reazioni di mormorazioni. Il cuore indurito di cui parla oggi il Vangelo ed è il cuore dei discepoli che erano con il Signore. Quindi, coraggio, non stupitevi se avete il cuore indurito, se abbiamo il cuore ancora indurito tante volte, è il cuore di chi mette alla prova il Signore, di chi dubita del suo amore. Come il popolo nel deserto, se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il cuore, prega con sapienza ogni giorno la Chiesa, preghiamo tutti noi, come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto dove mi tentarono i vostri padri. Quindi, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere, ecco, come i discepoli, pur avendo visto l'opera, il segno con il quale il Signore aveva manifestato che era il Messia, che era veramente l'inviato del Padre, me ne lo dubitano. Pur avendo visto le opere, dubitano e mettono alla prova. Cioè, siccome la storia non va come dico io, siccome io sono stato ferito da piccolo, siccome io sono stato oggetto di una ingiustizia profonda nella mia vita, siccome oggi c'è un'ingiustizia nella mia famiglia, nel mio posto di lavoro, siccome oggi c'è una malattia che non pensavo proprio di avere, siccome oggi è morta mia moglie, è morto mio marito, improvvisa a me, mio figlio è chissà dove con la testa, non mi chiama più ormai da mesi, ha deciso di rompere tutti i legami con me, si sta forse drogando, forse ha intrapreso una storia con una donna sposata. Ora, questo che è oggi la nostra vita, la nostra storia, ci porta a dubitare, vero? Ingannati dal demonio che indurisce il nostro cuore, che dice ma a te questo non deve capitare, ma tu veramente sei amato da Dio? Guarda, non è possibile. Allora, il tuo cuore è veramente indurito, il tuo cuore dubita e mette alla prova, tenta il Signore. Fammi vedere se veramente sei Dio, cioè noi vogliamo una incarnazione secondo i nostri schemi, secondo le nostre misure, secondo i nostri desideri. E il Signore invece non si incarna così. Per questo, subito, dice, dopo aver fatto quel segno, il miracolo, prende i discepoli e li obbliga, li prende a calci e li mette nella barca, e li obbliga, li spinge ad andare all'altra riva, a precederlo all'altra riva. Cioè, io vengo, voi andate, dovete fare un'esperienza molto profonda, di precarietà, di notte, di solitudine, e li sperimentare che io sono con voi, che io ho vinto la morte, che io conduco la storia meglio di quello che tu pensi dovrebbe essere il modo di condurla. Molto meglio dei tuoi miseri, meschini pensieri. Devi fare questa esperienza. Il fatto oggi di essere in mezzo al mare, con il vento contrario, faticando e non raggiungendo gli scopi che ci siamo prefissi, o almeno solo parzialmente, è il segno che Dio ti ama, che Dio ci sta proteggendo. Il Signore stava proteggendo i Suoi apostoli dalla vana gloria, dal pensare che quel segno era il preludio a una grande conquista, al sovvertimento della storia. Il Signore li protegge, il Signore ci protegge. Il Signore fa un miracolo, fa un segno enorme del suo amore nella nostra vita e subito ci obbliga ad andare all'altra riva. Subito più in là, nella precarietà, nella debolezza, sulla croce. Questo è il modo di operare del Signore, perché tu possa fare esperienza della sua reale incarnazione, dove tu sei quello che sei. Perché soltanto nel buio, soltanto nella solitudine, soltanto nella precarietà totale, tu puoi sperimentare quello che c'è veramente nel tuo cuore. Soltanto nel deserto tu puoi sperimentare, come dice la scrittura, quello che c'è nel tuo cuore. Se tu veramente ami o non ami il Signore, quello che tu stai vivendo oggi è il sigillo dell'amore di Dio, della sua protezione, che il Signore ti protegge e va a pregare per te. Lui ci pensa a congedare la folla. E qui possiamo fare un inciso brevissimo. Questa è una parola fortissima per i preti, per i genitori, per i rapporti affettivi e morbosi nei quali noi vorremmo fermarci. Il Signore compie una opera, forse attraverso di te, esbitero, catechista, missionario, ma non solo, anche genitore, padre, madre. Quando vediamo e sperimentiamo un segno, un miracolo dell'amore di Dio in noi o nelle persone che ci sono accanto, il Signore ti prende e non ti permette di fermarti lì, di saziarti di quello, di godere appieno di quello, perché non è quello. Quello è un segno, la moltiplicazione dei pani è un segno che rimanda a qualcosa di più grande, che è l'amore infinito di Dio per te, che si fa carne nella tua sofferenza, nella tua croce, che ha vinto la morte. È il cielo, è il tuo destino, è il cammino in mezzo alla morte, il vero obiettivo al quale il Signore ci sta conducendo e del quale i miracoli, le moltiplicazioni di pani e di pesci, di pazienza, di amore, di vita, che Lui fa giorno dopo giorno nella nostra storia, sono soltanto dei segni che ci rimandano a quello. Per cui anche noi siamo chiamati a non fermarci lì, ma a uscere da noi stessi. Ecco, questo è ciò che oggi il Signore ci sta annunciando. Stai nella barca? Cioè stai camminando nella chiesa? E con i fratelli sei entrato nella notte? Sono io, non temere, sono io, non aver paura, sono io, sono io, sono io, io ti amo. Questo sono io, non temere, è il vertice dell'incarnazione. Ego eimi, io sono, il nome di Dio, è Dio con te, è l'Emmanuele. Sono io nella notte, sono io che cammino sulla morte e poi Pietro fa la stessa identica esperienza e anche tu e io siamo chiamati a fare la stessa identica esperienza. Stare con Lui nella barca e vedere placarsi tutto intorno a te. E questo non significa che cambiano gli eventi o cambiano le persone. Significa che non ti procurano alcun danno. E poter entrare attraverso la morte nella vita. Non ce la facciamo a precederlo. È così. Lui ci ordina di precederlo ma noi non ce la facciamo. Abbiamo bisogno che Lui venga con noi. Ma questo è fondamentale. Sperimentare che tu da solo non ce la fai. Sperimentare che tu non sei Dio. Sperimentare che i tuoi pensieri, i tuoi schemi, i tuoi progetti non sono sempre in comunione con quelli del Signore o orientati con quelli del Signore. Accettare di non essere Dio. Accettare di avere un cuore indurito. E di non capire l'amore di Dio nella nostra vita, del suo farsi pane per noi. tante volte in situazioni incomprensibili. Accettare questo e prendere con noi il Signore nella barca e attraversare il mare della morte con Lui. Questo è il destino dell'incarnazione. Dentro di te, dentro di me, nella nostra vita, nella nostra famiglia. Entrare con Lui nella precarietà accettando che alle volte Lui, per amore, sembra che ci scansi. Sembra che ci mandi via qualche persona che veramente ti ama. Forse un prete, forse un catechista, forse tuo padre, tua madre, forse tuo marito. Il Signore lo ispira a dire come ha fatto Gesù con la Maddalena, non li metangere. Vai! Non ti fermare alla carne, anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, come la Maddalena, come dice San Paolo. Già non lo conosciamo più così. C'è un'altra conoscenza. Ci sono delle cose nuove che stanno nascendo. Chi è in Cristo è una creazione nuova. Già non conosce più nessuno secondo la carne. Già vive di Pasqua in Pasqua. In ogni situazione, in ogni esperienza, in ogni segno dell'amore di Dio, in ogni miracolo, in ogni evento della tua vita, già tu puoi viverlo come un passo verso più là, verso il cielo, che ci sta attendendo con questa libertà che ogni giorno di più ci spoglia di noi stessi, del nostro orgoglio, delle nostre cose, dei nostri felici, dei nostri idoli, per sbriciolare il nostro cuore. Un cuore affranto e umiliato. Un cuore umiliato, un cuore contrito. Un cuore che dice Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Io non posso fare nulla. Invece contentare oggi, in ogni giorno della mia vita.